Israele continua a martellare la striscia con intensi raid aerei nella zona di Gaza City e allarga le operazioni terrestri ad altre aree dell'enclave palestinese, mentre l'Iran minaccia di chiudere lo stretto di Gibraltar e quindi il Mediterraneo, se gli USA e i loro alleati, continueranno a commettere crimini nella striscia. Dovranno aspettarsi presto la chiusura del Mediterraneo, dello stretto di Gibraltar e di altre vie d'acqua da parte delle forze della resistenza, avvertito Mohammed Reza Nakhdi, comandante dei Pasdaran, nel pieno delle tensioni del Mar Rosso, alimentate dagli attacchi uti. Al settantottesimo giorno di guerra, fonti mediche a Gaza hanno riferito che almeno 20 persone sono rimaste uccise in diversi attacchi compiuti nel campo del Nuseirat e ad Eir al-Bara, nel centro della striscia, dove si concentrano al momento le battaglie più intense. Secondo la Associated Press, poi, che cita fonti dei soccorsi, un attacco aereo israeliano ha ucciso 76 membri di una stessa famiglia a Gaza City, uno dei raid più sanguinosi del conflitto, ha denunciato Mahmoud Bassal, portavoce del Dipartimento della Protezione Civile Locale, fornendo un elenco parziale dei nomi e sottolineando che tra i morti figura anche Issam al-Muqrabi, impiegato del programma di sviluppo ONU, sua moglie e i loro cinque figli. Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha parlato della situazione degli ostaggi, chiedendole l'immediato rilascio. Guterres ha sottolineato che niente può giustificare i terribili attacchi terroristici lanciati da Hamas il 7 ottobre, o il brutale rapimento di 250 persone. Poi si è soffermato sulle sofferenze della striscia, denunciando che quattro persone su cinque, tra le più affamate al mondo, si trovano a Gaza. Intanto, il presidente americano Biden e il premier israeliano Netanyahu sono tornati a parlarsi al telefono. Netanyahu ha ringraziato il capo della Casa Bianca per la posizione di Washington all'ONU, chiarendo che Israele continuerà la guerra fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi.